Ciao, oggi ho deciso di realizzare per te un video sugli esercizi brucia grassi. Perché? Questo perché tutte le ragazze ogni giorno mi domandano Alice, qual è l'esercizio per bruciare i grassi? Qual è l'esercizio migliore per perdere peso o per bruciare del grasso persistente? Allora, la brutta notizia è che non esistono esercizi specifici brucia grassi, ma esiste un percorso. Un percorso composto da che cosa? Da tre elementi. La giusta quantità di esercizio aerobico, la giusta quantità di potenziamento muscolare e la giusta alimentazione. Infatti andiamo a vedere quali sono le tre principali cause dell'accumulo di adipe, di grasso. Sono tre diverse cause. Una causa ormonale, mangiare male e non allenarsi. Molte ragazze mi contattano e mi dicono Alice, io ho del grasso accumulato perché ho dei problemi ormonali. Se vi devo dire la mia, la causa per il 99% dei casi è data da un continuo mangiare male e da un continuo non allenarsi. E quindi i problemi ormonali non sono che una conseguenza di queste abitudini scorrette. Quindi il mio compito, il mio lavoro è aiutarvi a prevenire disfunzioni gravi, problemi gravi dati da abitudini scorrette. Con questo video voglio andare a demolire l'idea preconcetta che hanno molte ragazze sul bruciare grassi. Infatti vedo centinaia di ragazze a fare attività aerobica per magari una, due ore e pensare di poter raggiungere degli obiettivi. Io sono qui per aiutarvi a raggiungere gli obiettivi e non vedervi demoralizzate perché pensate di essere voi la causa del vostro problema. Il problema sono le diete scorrette che trovate sui giornalini, le app gratuite che vi consigliano esercizi sbagliati. Quindi affidatevi ai giusti professionisti. Cosa dovete fare? Beh, se fate esercizio aerobico a bassa intensità per lunga durata non è l'unica soluzione. Questo semplicemente perché la metabolizzazione del grasso avviene solo dopo un'ora di allenamento. Ed io entro in contatto con categorie di donne impegnate, mamme con bambini, imprenditrici. E diciamocela tutta, quante hanno tempo 20-30 ore a settimana per fare attività aerobica? Credo quasi nessuno. Quasi tutte le donne con cui sono in contatto hanno massimo 4 ore. Quindi fare attività aerobica che richiede al minimo 40 ore settimanali per ottenere risultati concreti diventa impossibile. Vuol dire che i vostri risultati li raggiungete in un anno, in un anno e mezzo. E voi realmente vorrete aspettare tutto questo tempo? Io credo di no. Quindi la soluzione è poter aggiungere esercizi funzionali di potenziamento muscolare. Questo perché? Perché potenziare la massa magra vi aiuta ad accelerare il metabolismo anche a riposo. Quindi aumentare la massa magra aumenta il vostro metabolismo e di conseguenza vi fa bruciare grassi prima. Ve lo dico anche con degli esempi numerici. Voi con un'ora di attività fisica aerobica bruciate 10 grammi di grassi. Un risultato considerevole potrebbe arrivare quando andiamo a bruciare un chilo di grasso. Un chilo di grasso sono 1000 grammi. Vuol dire 100 ore di attività aerobica. Vuol dire che ci mettete 2-3 mesi per bruciare un chilo di grassi. Che potreste invece raggiungere con 3 sessioni di allenamento, di potenziamento fisico. Quindi circuiti ben studiati, fatti da professionisti che vi fanno aumentare la massa magra e vi fanno bruciare grassi nel modo corretto. Quindi per tutte le ragazze che mi chiedono come posso bruciare grassi dovete intraprendere un percorso. Vince chi considera l'attività fisica un percorso, non una pastiglia di ma grande piuttosto che un esercizio specifico. Quindi iniziate a mangiare bene, affidatevi ai giusti professionisti che vi diano un giusto programma nutrizionale senza alcun tipo di carenze. Effettuate la giusta quantità di esercizio aerobico. Io nel mio programma aggiungo anche l'esercizio aerobico per potenziare l'attività del microcircolo, solo per quello. Terzo punto, eseguite circuiti funzionali ben studiati che se sono ben studiati e ben eseguiti vi fanno bruciare molti più grassi che la semplice attività aerobica. Quindi se vuoi raggiungere i tuoi obiettivi e sei stufa di perdere tempo, ho lasciato sotto questo video un link che ti porta al mio programma completo. Cosa include il mio programma completo? Consigli nutrizionali giorno per giorno, completi, studiati e certificati da un'equip medica professionista. Punto 2, include esercizi mirati, circuiti funzionali che ti permettono di raggiungere i tuoi obiettivi, evitando ore e ore sul tapirulano che non ti portano a nulla. Punto 3, ti dà un contatto diretto con me 24 ore su 24. Non si tratta della classica applicazione gratuita che ti considera un numero, ti lascia abbandonata te stessa, ma di una comunità. Quindi io ti terrò a giornata, giorno per giorno, mi potrai comunicare i tuoi progressi, sarei inclusa all'interno di una comunità esclusiva su Facebook. Quindi fai azione oggi, ti aspetto, qui sotto c'è il link. Ciao!